Questa settimana più volte abbiamo detto occupiamoci di Lilli anche perché è un altro degli argomenti di questa trasmissione che sta a cuore ai nostri telespettatori, sta a cuore molto a noi. Avevamo inizialmente pensato a un titolo che riguardava solo lo stato d'animo di Lilli, questa solitudine, questa donna da sola di cui tutti parlano, ma lei non parlava con nessuno, non ha confidato a nessuno il suo stato d'animo, il suo desiderio di cambiare vita, la sua voglia di iniziare una nuova vita con Claudio. Tutto questo ammesso che sia vero, quindi lo prendiamo con beneficio del dubbio perché sono gli altri che ci parlano di Lilli. E poi però spunta oggi l'ennesima dichiarazione forte, importante di Claudio che dice delle cose appunto molto particolari. Le dice alla nostra Tatiana Bellizzi, a Marco Bonifacio, cominciamo con la prima parte dell'intervista a Claudio Sterpin, sentite. Sul cuscino si vede un baracchino, a cosa ti serve? Una rice trasmittente adagiata sul cuscino di Liliana, un'immagine catturata nel corso di un'intervista fatta a Sebastiano a casa sua, nella camera da letto che condivideva con la moglie, lì dove c'era quell'insolito ricevitore che non è sfuggito all'amico speciale Claudio. Puoi comunicare con qualcuno? Eh sì, con me! Non credo! Ma con Lilli! Ma nelle ultime ore c'è un nuovo grande interrogativo. Nel corso della prima perizia, nel corpo di Liliana sono state riscontrate due proteine, amminoacido salicilico nelle urine e idrossichinolina nel sangue. Quest'ultima è una sostanza che può essere utilizzata per le piante e che è contenuta anche in alcune creme, come quelle depilatorie. Diversa, invece, la presenza dell'aminoacido, che per i consulenti medici di Sebastiano è un dato allo stato ancora inspiegabile. Si tratta, a dire degli stessi, di un farmaco in uso per malattie infiammatorie intestinali. Ecco cosa ci racconta Claudio su questi piccoli disagi di cui soffriva Lilli. È successo qualche volta anche qua che lei gli assaliva questo crampo improvvisamente, così aveva un certo malessere, diceva. Allo stomaco, sì, alla zona, ecco. Si riposava veramente pochi minuti e ne usciva come non fosse successo niente. È successo qualche volta anche qua. E mi diceva che è una pecca che aveva. Si prendeva qualche farmaco probabilmente, ma ed era non tanto frequente. Io non mi spingo, anche perché non ho le competenze, neanche per far finta di capire, diciamo, come possa essere entrata in contatto con questa molecola. Mi faccio però una domanda, dottoressa Bruzzone. Allora, al di là di tutto quello che ha detto Piero Colaprico, si partirebbe da un errore piuttosto, parrebbe non spiegabile, no? Cioè, tali sostanze possono, da parte di chi ha fatto l'autopsia, tali sostanze possono indicare l'assunzione pregressa di un'aspirina o di un'accumule tachipirina. Se questo non è vero... Sono andata a rivedermi tutto. Peraltro, guarda, il tossicologo impegnato in questa attività è anche un tossicologo che ha una buona reputazione all'autopsia tecnico scientifico. In più ha fatto un'indagine ad ampissimo spettro, ha indagato più di mille sostanze, quindi ha fatto un lavoro estremamente preciso. Pare veramente, insomma, sconcertante che possa aver preso comunque un abbaglio di questo genere. E' certo un elemento da indagare. Se così è, soltanto chi è esperto di questo tipo di materia può dare una risposta più precisa. Lì, nella relazione della tossicologia, si parla chiaramente dell'assunzione verosimilmente o di un'aspirina o di un antipiretico, quindi di un'attachipirina. E nulla più, peraltro con percentuali, con una concentrazione molto bassa. Se così non è, anche su questo punto occorrebbe fare chiarezza, fermo restando che non ha alcun rilievo ai fini della causa di morte. Ecco, questo mi sento di dirlo in maniera molto chiara. E' una sostanza che va sicuramente fatta una precisazione. E' un errore. Quindi, per carità, ci sta. Però considerate che dal punto di vista tossicologico nessuna sostanza rilevata ha avuto una sua influenza, neppur minimale, nell'indurre l'evento mortale. Quindi quella parte lì è stata indagata. Se c'è un errore di questo tipo, ne prendiamo atto. E sicuramente, insomma, penso che la Procura dovrebbe chiedere una relazione di approfondimento al tossicologo che ha lavorato per loro. Allora, sentire cosa ne pensa la dottoressa Bruzzone. Allora, abbiamo sempre pensato che ci fosse un clima abbastanza teso. Gli amici della sera prima, della cena precedente, hanno chiaramente indicato, peraltro c'è un video che fa Sebastiano, no? Liliana, in effetti anche il comportamento non verbale di Liliana non parrebbe essere particolarmente sereno e agliettato dalla circostanza. Quindi, che ci fosse tensione, credo che sia un dato assolutamente verosimile. Il passaggio del telefono va un po' collocato, perché di fatto, ripeto, i cellulari di Liliana dall'abitazione non si spostano. Se ipotizziamolo, come ha fatto la Procura fino adesso, che la decisione di lasciare a casa i cellulari fosse in qualche modo da leggere nell'ottica suicidaria, è una scelta che non sorprende. Io ho avuto diversi casi di persone che poi hanno scelto di suicidarsi e hanno lasciato a casa, peraltro prima formattandoli, tutti i dispositivi elettronici. Allora, però... Quindi questo è un dato che ad oggi può essere letto in entrambe le direzioni, cioè non è anche qui, è una... Perfetto. È una biforcazione, c'è ancora un'altra volta un bivio, non c'è una strada maestra. Perfetto. Allora però io decido di lasciare a casa i telefoni, decido di lasciare a casa la borsa, tolgo chiavi, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché ho in testa un disegno, dottoressa Bruzzone, però molto ben preciso. Io ho deciso in quel momento che la mia vita deve finire, per cui è inutile che mi porti dietro i telefonini, tanto dove sto andando i telefonini non servono. E quindi li lascio a casa, cambio la borsa, perché? Tolgo la fede, lascio oggetti, prendo le chiavi di riserva per tanti motivi, ma solo se io decido che in quel momento la mia vita è finita. Però non è che mi trovano morta 20 giorni dopo, perché in quell'arco di tempo... è un arco di tempo troppo ampio. Io posso anche decidere di allontanarmi per un periodo non necessariamente avendo ancora ben chiaro questo tipo di elemento. Nel senso, guarda quello che è successo a Ischia. In caso di Ischia, per certi versi, parrebbe molto ritalcare la vicenda di Liliana. 5-6 giorni, si parla. Sarebbe rimasta da sola, in giro, senza mezzi, senza alcun tipo di strumento elettronico, almeno 5-6 giorni prima del ritrovamento. In un'area, peraltro, che venne prelustata in precedenza e che chiaramente non aveva permesso il ritrovamento del corpo della signora. Quindi è anche questo un aspetto che, sul piano razionale, come diciamo anche spesso sia io che Sara, quando hai a che fare con qualcuno che è in una condizione di profonda angoscia, che potrebbe essere la situazione in cui si trovava la signora Liliana, perché comunque era davanti a un bivio, questo bivio sentimentale, che però in una vita come quella di Liliana, con una personalità comunque non particolarmente effervescente, quindi una donna che è sempre vissuta un po' all'ombra dell'uomo che aveva accanto, perdonatemi, insomma, un po' questo riferimento, e che ha un bivio davanti con due uomini che hanno personalità molto ingombranti, entrambi sotto certi profili, perché anche Sterpine è un uomo che è molto consapevole di sé e in qualche modo ha uno stile di vita anche abbastanza, diciamo, assertivo. Quindi sono due uomini che per certi versi sono anche molto simili sotto questo profilo. Quindi il bivio di Liliana è un bivio, insomma, morale, psicologico, affettivo, che non è di poco conto, quindi uno può anche decidere che mi allontano e vedo quello che succede, astrattamente. Mi allontano, ma... Senza non necessariamente avere ben chiaro questo tipo di disegno finale. Mi allontano, ma vado dove, però... Liliana è un enigma per tutti, perché Liliana di fatto non si è mai confidata con nessuno, anche quelli che oggi, insomma, si candidano ad essere le persone più vicine a lei. Lo erano certamente da un punto di vista così, di vita quotidiana, ma di Liliana Resinovic ci sono poche persone che hanno davvero accesso alla sua parte più privata, più segreta, se vogliamo. Nessuno sapeva di Claudio. Già questo è un parametro incredibile. Non è una ragazzina di 15 anni, è una donna di 60 e fischi anni. Possibile che non abbia una persona sola nella vita con cui confidare un evento di questo tipo, cioè aver trovato un nuovo amore in un'epoca della vita, certamente non così banale, no, per affrontare una scelta di questo tipo. E in questa direzione. E non sorprende questo aspetto. Liliana è un enigma, cioè Liliana vive un conflitto sicuramente, e quel conflitto può averla portata a sperimentare diverse vie prima di prendere una decisione finale. Questa è un'ipotesi. Sì, è quello che noi abbiamo voluto. Terzo uomo. Oppure c'è un terzo uomo, c'è una terza persona, diciamo così. Una terza persona. Che non è detto che sia per forza l'assassino. Scusate, c'è un dato di fatto. Su questo però la dottoressa Bruzzone è categorica. Le condizioni in cui viene trovata lì, non sono compatibili con un'esposizione all'aperto di tre settimane. No, ma non solo. È in decubito laterale, sembra che stia addormentando, ha le mani che si stringono intorno alla parte superiore del giacone. Cioè non è neanche una posizione che ti attenderebbe. Sì, da un corpo che viene rilasciato in una condizione, diciamo così, che siamo abituati a vedere in tante situazioni. Ci sono tanti elementi da tenere in considerazione. La posizione finale assunta è una posizione che sembra proprio quella di un soggetto che quasi, insomma, ci si sia addormentata in quella posizione lì, fondamentalmente. Quindi ci sono tanti aspetti. Ma i vestiti, i segni, al di là della... I vestiti sono perfettamente integri. Non c'è segno di colonizzazione dal punto di vista chiaramente entomologico. Non c'è nessun segno di putrefazione neppure iniziale. Addirittura poi, quando viene fatta l'attacca, giorni dopo, si conferma il dato perché non c'è assolutamente, diciamo, nessun elemento che lascia ipotizzare che ci sia stato comunque un inizio di una putrefazione. Neanche di quelli propri iniziali. Cioè, o anche lo strumento. Possiamo non fidarci il medico legale. Vabbè, ho capito che alcuni di voi non hanno questa grande opinione, insomma, di questo professionista, d'accordo. Non del professionista dell'operato. Il dubbio è sull'operato. L'attacca la vogliamo ritenere affidabile o anche l'attacca? Ci abbiamo dei dubbi sull'attrezzatura che c'è a Trieste. Perché, cioè, ci sono alcuni dati che sono veramente difficilmente conciliabili con un'epoca della morte precedente. La causa della morte è riconduciveno a una, diciamo, soffusa, soffuso meccanismo asfittico da soffocazione. Non è uno strangolamento, perché ancora non ci sono i solchi. Non c'è bisogno che ci siano i solchi. È la soffocazione. È l'adesione del sacchetto agli orifizi respiratori. E i segni sono quelli. Cioè, va bene. Però l'altra strada, allora... Non credo che ci siano. Una donna come Liliana, molto attenta agli altri, sempre molto disponibile. E poi manchi nella parte finale. Cioè, nel momento in cui decidi di suicidarti, non lasci niente a tuo fratello, a tua nipote, non lasci il braccialetto, non lasci... Ci sono troppi aspetti che, secondo me, non coincidono. Giustamente, prima la dottoressa Abruzzone diceva che, insomma, anche dalla sua esperienza diretta, quando una persona decide di suicidarsi, capita che faccia dei gesti prima, delle decisioni prima. Certo. Però, credo che tendenzialmente vadano tutte verso un'unica direzione. Che possa essere anche quella di lasciare la casa linda e pulita per i familiari. Non delle questioni che, invece, si contraddicono fra di loro. Cioè, da un lato sembra la volontà di dire lascio tutto preciso e me ne vado. Dall'altra parte, invece, ci sono degli elementi che vanno nella direzione completamente opposta. Secondo me è qui l'errore, se posso permettermi. Abbiamo un elemento, secondo me, abbastanza indicativo della personalità. Lei esce di casa, le immagini ce lo danno per certo. Certo. Che lei sia fuori di casa, non credo che sia una delle poche cose su cui non c'è margine, diciamo, di discussione. Con la differenziata. Sì, sì, certo. Eh, appunto, certo. Ma questo ci dice che è una persona che, evidentemente, all'aspetto dell'ordine, cioè del formale, dava una certa importanza. Assolutamente. Però poi non coincide con altre cose. Però con la differenziata. Non coincide con altri aspetti. È proprio questo, cioè, buttare la spazzatura. Lascia tutto in ordine e poi se ne va. Eh, però è questo che stride, siamo tutti d'accordo.